Un uomo che è riuscito a realizzare più di 120 gol calamaia del mio club oggi affronterà la partita più difficile della sua vita contro di lui Bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono OndaDurto e quest'oggi come avete potuto capire dalla super intro Siamo con un uomo che non si vede sul canale da anni da secoli che non registro con lui ma adesso torniamo a farlo in grande stile Ragazzi mi presento Eric Gamer mamma mia Eric Ma ciao a tutti ragazzi Eccolo Mamma mia da quanto da quanto È pronto a sfidare il mio super nicolone cioè che proprio sai tu che l'hai seguito nelle live comunque sai quanti gol è in grado di fare quanti gol ha fatto Quanto è forte ragazzi un uomo da 144 partite 131 gol e 55 assist e un cartellino giallo e basta Quindi ragazzi un uomo mostruoso adesso io e Eric ti invito per iniziamo subito con la partita via Ragazzi questa è la squadra di Eric Gamer con alla sinistra uno che non conosco E alla destra Manet poi Musa lì davanti Fer che è un incubo The Four Drinkwater tutti Ragazzi non ha tutti i tripidi tranne The Four Drinkwater il portiere Steckelenburg Ma è tutti i tripidi cioè non è valido C'ha troppi tripidi Eric Si notare poi l'allenatore finlandese che tipo sembra Michael Jackson sbiancato Iniziamo raga Ragazzi prova subito Buffon Amma mia Buffon GG Basta passare la palla ai tripidi Dai più o meno dai ferma è ma troppo nero Ma non è giusto raga ma è ricasculato con i tripidi Ma vaffanculo Parte il tiro Guarda Ma non è giusto Non è giusto Ma se devo vedere E' un po' di più 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 Ma va a fattura Ma va a fattura Ma va a fattura Ma va ragazzi Che c***o Sì ho visto mica Cioè sui fai i turni e quelli li ti spaccano il pallone in due Con la terza gamba te lo bucano Ma va col c***o peggio di un chiodo E' un po' di più E' un po' di più Ma dai un c***o giallo Chi che fai c***o 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 tutti i lineeri non riesce ad attaccare E' un po' di più Fernando Scuso Mamma mia Mamma mia Aspettando E' un po' di più Guarda circondato da più vicineri E' un po' di più 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 Fции Allue E finisce ragazzi E finisce così 3 a 2 Anche quando sembrava ormai tutto fatto per Eric Per la vittoria Riesco a recuperare e vincere 3 a 2 Mamma mia Grande Bonnie, grande tutti Mamma mia, vittoria Grande Eric, anche perchè ha giocato bene Grazie Io ragazzi per questo video Penso, posso, ne sono tutto Io vi ringrazio per la visione Un saluto, un saluto, un asurto Ciao ragazzi Ciao rigamer, ciao 3 a 2 Marchiglia, tripide